Anche quest'anno, dopo il premio segnato nel 2009 al giocatore del calcio Catania Takayuki Morimoto, il presidente del club sportivo Ciclope di San Giovanni Lapunte, il maestro Alberto Le Luca, con il patrocino dell'assessorato allo sport dello stesso comune, ha segnato ieri, perso la palestra comunale di Via Morjoni, un premio di un altro calciatore del calcio Catania, nel corso della manifestazione ripesistica, dove si sono esibiti i migliori pesisti etnei. Quest'anno ad essere premiato è stato infatti Peppe Mascara, giocatore simbolo del calcio Catania, amato da tutto il popoletto neo e scelto proprio per il suo grande impegno in squadra, ma soprattutto per le magie che riesce a fare una volta sceso in campo. Presente alla manifestazione di ieri il presidente provinciale del CONI, il professor Giuseppe Crisafulli, il sindaco del comune, il dottore Andrea Messina e l'assessore allo sport, il signore Inazio Motta ed altre autorità sportive.